La casta si difende, si chiude, c'era la richiesta di magistrati che dovevano andare su delle indagini che riguardavano la mafia e per queste indagini avevano bisogno di acquisire dei tabulati, la Camera ieri ha rigettato questa richiesta della magistratura, ieri la casta ha fatto squadra e proprio rispetto a queste questioni che sono davvero intollerabili, cittadini che non sono cittadini ma sono casta, ho cercato di fare la mia prima riforma, la prima riforma che mi sono approvato da solo in Parlamento perché non utilizzo come tutti gli altri queste immunità, questi favori, queste opportunità che si hanno qui dentro, ovvero di non essere cittadini normali, ovvero di non poter utilizzare le intercettazioni o i telefoni, io invece ho fatto la mia riforma e ho ancora il mio numero di telefonino che è intestato alla mia società e non l'ho cambiato e non l'ho messo intestato a me come parlamentare perché in quel caso avrei avuto anche i privilegi della casta, invece voglio essere intercettato come tutti i cittadini perché non sono un deputato, sono un cittadino e come tutti i cittadini devo avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, gli uomini politici non sono tutti uguali, perciò cerco di non essere uguali, di non essere la casta, bisogna smontare la casta, invece tutti uguali e tutti devono essere di fronte alla legge, per queste ragioni c'è una dittatura strisciante qui in Parlamento, martedì vediamoci a Piazza Navona per questa grande e importante manifestazione con la quale dobbiamo riportare democrazia e legalità, altrimenti il Caimano continua qui in Italia contro gli italiani.